Giacomo Attias, Vitale Attias, Aurelia Camerino. Sono alcuni dei 46 nomi delle persone che dal campo di concentramento 52 di Calvary in Fontana Buona furono deportate nei lager nazisti di Auschwitz, Dachau e Birkenau. Da oggi quei nomi sono affidati anche ad altrettanti alberi di Tamerice che cresceranno sfidando la Salsedine e andranno a formare il parco della memoria Chiavari allestito nell'area del porto turistico. È un atto simbolico legato alla giornata mondiale della terra. È chiaro che l'albero è l'elemento più caratterizzante. Il nostro impegno però come ampi di Chiavari nella dedicazione di questi alberi ai deportati ogni albero rappresenta una figura reale in carne ed ossa che è stata portata via dal territorio del Tiguglio. La cerimonia di messa a dimora delle piante a cui hanno preso parte autorità e anche l'ampi di Chiavari ha visto la partecipazione di diversi studenti. Il logo del parco è stato disegnato dagli allievi del Luzzati a gettare la terra su una delle Tamerici, quelli del liceo Marconi del Pino. Oltre alla lettura dei 46 nomi delle vittime arrestate a Chiavari c'è stato il saluto di Ariel dell'astrologo, presidente della comunità ebraica di Genova e quello di alcuni dei parenti dei deportati. Loro hanno sfollati a Cavi e poi sono stati arrestati a Chiavari il 16 dicembre 1943 e poi li hanno portati al campo 52. Tutto questo gruppo di persone è finita a Milano, a San Vittore e poi sono partiti in quel convoglio in cui c'era anche Liliana Segre. Nessuno è tornato di loro? No, assolutamente nessuno. Io all'epoca avevo 5 anni e quindi voglio dire ci sono cose per le quali di cui come il momento dell'arresto di cui sono stato diretto testimone anche se inconsapevole di quello che stava avvenendo in casa. Spero che qualcuno continui a ricordare non per mantenere un risentimento fra comunità ma per capire che l'odio non risolve nessun problema.